andremo a preparare il pane freddo con l'uovo per la serie che non si butta mai nulla abbiamo sbattuto tre uova un po di latte perché il pane parecchio raffermo e visto che andiamo a preparare dei pastellati quindi il pane non è congelato andiamo a mettere su la la nostra black diamond 32 col coperchio 35 e lo andiamo a accendere per il minimo in modo tale da andare a da mollare il pane nel latte poi lo passeremo nell'uovo e lo metteremo a friggere andremo a sistemare il pane nella pentola vedete che il nostro olio ancora è freddo ma si sta iniziando a riscaldare la nostra pentola è piena con il pane e lo andremo a mettere il coperchio andando a fiamma alta e aspettiamo qualche minuto per poi girarle il nostro pane è già freddo morbido